Sempre più solido si rivela ormai il connubio tra l'Università e lo Sferisterio di Macerata, ultima prova nella nuova campagna di iscrizione e comunicazione dell'Ateneo, che ha come tema Unimc la nostra opera. A presenziare alla presentazione, che si è tenuta presso l'aulamagna della Facoltà di Giurisprudenza, il Rettore Luigi Lacchè. Macerata, al di fuori dei suoi confini, spesso significa Sferisterio, che è una sua grande eccellenza e credo anche l'Università. Quindi insieme queste due istituzioni hanno deciso di collaborare e di mettere insieme idee per raggiungere risultati. La nuova campagna pubblicitaria, che unisce nel suo tema l'Università e l'Opera, ha giocato sulla ricorrenza del bicentenario dalla nascita del noto compositore italiano Giuseppe Verdi, di cui alcuni studenti hanno preso le sembianze con un simpatico fotomontaggio. Questo è un luogo di magistero, dove si insegna e si formano i formatori, i dirigenti, insomma, i laureati, quelli che portano il lauro. Verdi è sicuramente un grandissimo maestro d'arte e di vita, perciò credo che abbia molto da dire e da dare ai ragazzi di questa Università. La scelta, che durante la presentazione ha riscosso un notevole successo di pubblico, vuole sottolineare non solo l'unione tra le due istituzioni, ma anche la partecipazione degli studenti, vero motore di questa campagna.